la mia colonna mi sono accorta che mi sono troppo di vertigine non ci sono le protezioni vogliamo accorgere? buongiorno piacere stai facendo un selfie o solo? no con un cinese la nostra meta è Firenze e per arrivarci prenderemo un treno che da Milano in poco tempo ci porterà a destinazione eccoci qua ciao eccoci siamo arrivati a Firenze e niente adesso usciamo dalla stazione e raggiungiamo il mio cugino e poi iniziamo il nostro si ci facciamo un bel giretto inizio caffè si può avere infatti la prima tappa è la chiesa di Santa Maria Novella ma neanche il tempo di arrivare e ci ritroviamo sotto ad una fazzone stiamo entrando in Piazza della Signoria una piazza bellissima un museo a cielo aperto dove non si può non notare l'enorme fontana di Nettuno una bellissima scultura sul suo carro con sulle ruote incisi i segni dello zodiaco che stanno a indicare lo scorrere del tempo di fianco al Nettuno troviamo Palazzo Vecchio il centro della città dove oggi abbiamo il comune di Firenze nel suo esterno si notano gli stemmi fiorentini che lo caratterizzano vicino all'ingresso invece si nota il ritratto a basso rilievo realizzato da Michelangelo la leggenda narra che Michelangelo annoiato dai discorsi di un suo concittadino che continuava a fermarlo decise di ritrarlo un po' per scarnirlo per ammirare il persio di bronzo con testa di medusa realizzato da Cellini la particolarità di questa statua è che se la si osserva da dietro si nota l'autoritratto dell'artista stiamo attraversando via dei calzaiuoli che è una delle vie centrali piena di negozi, firmati e quant'altro Firenze è molto bella da percorrere a piedi e tra i suoi negozi questa città è nota per la lavorazione delle pelli e non si può non notare le numerose borse e accessori vari fatti con questo materiale Durante la nostra passeggiata facciamo anche una breve sosta alla Fontana del Porcellino che dico non porti fortuna se si inserisce una moneta all'interno della sua bocca e la si riascia a cadere giù nel pozzo La nostra passeggiata prosegue verso Ponte Vecchio il ponte più bello di Firenze dove in antichità si trovavano le botteghe meno nobili come quello dei pesci vendoli il pomeriggio lo concludiamo ammirando il pomeriggio un panorama di Firenze dal punto più alto della città l'Abbazia di San Mignato al monte da dove si vede l'intera città Siamo arrivati in cima e dietro abbiamo il panorama di tutta la città bellissimo e dall'altro lato c'è la basilica per un matrimonio Per la nostra prima sera decidiamo di passarla fuori Firenze in un paesino di nome Pontassive dove troviamo una graziosa festa in puro stile toscano con tanta musica persone allegre e buonissimo cibo è arrivata sera la giornata arriva quasi alla fine ma prima cena un po' più non poteva mancare non poteva mancare non poteva mancare un po' più con moloni caldi ha 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 eccoci qui siamo un'altra giornata qui a Firenze e adesso andiamo a farci un po' di giri Si riparte con un'altra giornata a Spasso per Firenze e decidiamo di iniziare dalla Torre di Giotto uno stupendo campanile che spicca nella città con le sue ricche decorazioni che raccontano la storia della redenzione Ci aspettano una cosa come 400 scalini da fare a salire, 400 a scendere Siamo venuti a fare le scale Siamo sulla Torre Campanile alle 11.30 Scesi dalla Torre passiamo vicino al Battistero dove ammiriamo le magnifiche porte dorate Passeggiando intorno al Duomo passiamo davanti alla statua del Cornuto Leggenda vuole che uno degli scalpellini che lavorava la realizzazione del Duomo la scolpì perché aveva una relazione con la moglie di uno dei negozianti lì di fronte che cercava di allontanarli Noi siamo alla moda e siamo tre verdoni in tre gradazioni diverse tra l'altro La giornata è lunga e prima di continuare ci fermiamo per pranzare con un piatto tipico di Firenze il Lampredotto un panino davvero saporito a Davide è piaciuto ma come direbbe la Mayonki per me è no a Davide è piaciuto a Davide è piaciuto a Davide è piaciuto la mia famiglia Adesso stiamo andando nel quartiere di Dante A vedere il famoso sasso di Dante Quindi questo qui, che adesso gireremo È veramente il quartiere che Dante Che ha vissuto Dante Esatto, che frequentava quando era in campo Eccoci qua, siamo ancora in viaggio Siamo passati da casa, ci siamo fatti tutti e tre una bella doccetta E adesso andiamo a Cerafuori In una trattoria tipica fiorentina Capace di rigorosamente carne Eh già Un'altra giornata è finita Ma questa è una sera speciale È il compleanno di Alessandro Quindi ci vestiamo di tutto punto E andiamo a cena fuori insieme In uno dei migliori ristoranti della città Allora Alessandro Grazie Stora Grazie Grazie Ho cenato Adesso Facciamo due passi per digerire E nel fare due passi non c'è cosa migliore Che farci un giro Nelle strade un po' del mistero Sì Delle cose un po' più Segre Particolari Segrete Nascoste E magari anche un po' mistiche Di Firenze Guarda che bella Guarda che bella Allora Tan 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 Ecco qui Della mosca Allora usciamo Allora usciamo Da vedere la mosca Stiamo andando Alla fiorita Piazza della signoria Qua invece ci troviamo Alla fiorita Il luogo dove venne messo Arrogo Girolamo Savonarola Un moralizzatore Che si era accanito Contro il lusso sfrenato Dei medici E per questo Venne messo Arrogo Adesso passiamo davanti Ad una curiosità Della città La ruota Il luogo dove venivano Punite le persone Che avevano debiti Con lo stato Sbattendole con il sedere Per terra Per il numero Di fiorini Di debiti Nasce da qui Il modo di dire Rimanere Con il culo Per terra Il nostro tour della notte Non può non finire Che ha palazzo non finito È stato realizzato Da Alessandro Strozzi Che non riuscì Mai a finirlo Una leggenda Misteriosa Racconterebbe Cos'è successo Sembra che Strozzi Fece un patto Con il diavolo Per riuscire a finire L'opera In un anno In cambio Melzebù Avrebbe avuto L'anima Del nobile fiorentino Ma lo scambio Non andò a buon fine Perché Alessandro Chiese al diavolo Di completare l'opera Con degli arredi sacri Davanti a tale richiesta Il demonio Scappò in orridito Gridando Non finito Non finito Non finito Non finito In seguito A questa maledizione demoniaca La struttura In via del Proconsolo Passò la storia Come il palazzo Non finito Per il nostro ultimo giorno Dedichiamo tutta la mattina A percorrere le magnifiche sale Della Galleria degli Uffizi Per ammirare le stupende opere Che sono esposte Un giro molto lungo Ma che ne vale proprio la pena Andiamo a farci un giro A palazzo Pinto Per il pomeriggio Concludiamo il nostro tour di Firenze Con il magnifico palazzo Pitti E i magnifici giardini Che lo circondano Prendendoci il tempo Di una penichella Sul soprano Prima di dirigerci alla stazione E di ritornare a Milano Scegli il giardino Arrivati Per ammirare le stupende opere